e siamo al video di fine settimana con le candele weekly quindi vediamo un po' la situazione dall'alto questa è stata la settimana delle frenate frenate sul candlestick che erano state anticipate come avevamo visto nei video della settimana scorsa da diverse figure sul daily quindi qua avevamo un test e spalle ribassista sui rendimenti avevamo una tristar ribassista sul russell una shooting star ribassista sul dax eccetera eccetera quindi vediamo adesso tutte queste figure sul daily se hanno fatto hanno avuto degli effetti tecnici sulla scala superiore che ricordo sempre molto importante da un punto di vista tecnico perché c'è molto meno noise c'è molto meno rumore sulla scala settimanale e quindi offre una situazione più stabile anche se ovviamente l'evoluzione molto più lenta allora cominciamo dal dollaro quindi abbiamo detto figure di frenata figure di frenata sul candlestick sono quasi sempre rappresentate da candele da corpi piccoli da estensione ridotta e molto spesso seguono invece delle candele di ampia estensione sono le figure cosiddette di arami come si chiama nel gergo tecnico del candlestick che appunto indicano frenata non indicano reversal necessariamente però da qui adesso il mercato si prende una pausa e questo ci stava perché questa era una settimana di scadenze tecniche dove il mercato appunto tende più o meno a stabilizzarsi attorno a certi livelli ed è stata anche una settimana dove i dati macro sono stati molto discordanti quindi in questo momento il mercato è abbastanza perplesso sulla direzione da prendere basandosi solo sui dati macro soprattutto per cercare di capire se l'inflazione torna giù se la recessione arriva o non arriva eccetera eccetera e soprattutto quando e soprattutto quando allora dollar index ci va a fare questa figura di frenata qui sulla media 40 ricordo che qui siamo sulla scala weekly quindi apro qua le tendine per far vedere gli indicatori usiamo la media 40 perché è quella che ci replica l'andamento della media 200 su scala daily su scala weekly la media 40 l'euro chiaramente riflette il dollar index dalla parte opposta è simmetrico in quanto il dollar index per oltre il 50 per cento all'interno di quell'indice pesa l'euro l'euro è arrivato al target di 1 0 4 qua figura di piccolo shooting una star e quindi anche qui a rami frenata fatta proprio sulla media a 200 quindi abbastanza non prevedibile ma anche questo ci stava perché è una un'area di resistenza quella data dalla volatilità di stop line e dalla media a 200 i rendimenti rendimento sul decennale tedesco il rendimento sul decennale tedesco si espande lentamente verso il basso qui avevamo visto delle figure bearish quando ripeto un concetto quando si dice candela bearish non significa che da lì parte il bear market o candela bullish da lì parte un bull market sono come ho spiegato nell'altro video per chi non l'avesse visto lo ripeto brevemente è come dire c'è una nuvola che candela bearish significa c'è una nuvola poi la nuvola va messa nel contesto perché se siamo nel mese di novembre che è un mese piovoso se ci sono nuvole è più facile che piova che non a giugno che invece statisticamente è un mese asciutto e quindi perché noi ragioniamo in termini statistici probabilistici non si fanno previsioni domani succede questo dopodomani succede l'altro allora in base a quello che ci dice il candlestick sui rendimenti continua l'espansione verso il basso ma lenta quindi questo riflette quello che diceva prima l'incertezza sul fatto che l'inflazione sia effettivamente rollando verso il basso oppure no e quale sarà l'atteggiamento delle banche centrali perché diversi esponenti delle banche centrali americana questa settimana e anche europea hanno detto che manterranno i tassi più alti a lungo termine però per il momento il trend verso il basso sebbene lentamente sta prendendo forma diverso il rendimento sul decennale americano che come vedete ha avuto una reazione si vede dall'ombra cioè mentre il rendimento tedesco è andato a chiudere nella parte bassa della candela qui abbiamo fatto una specie di piccolo hammer ecco quindi queste sono figure appunto di incertezza quindi questa è una settimana ricordo la settimana prossima tra l'altro il mercato americano è praticamente lavorerà mezza settimana perché la settimana del thanksgiving quindi da mercoledì già gli operatori smobilitano ed è una settimana anche con pochi dati macro quindi vedremo quale sarà il comportamento fra lunedì e martedì a valle della chiusura delle scadenze tecniche e dopodiché il mercato si metterà come storicamente avviene in una posizione di trading range con volumi bassi generalmente quindi attenzione perché anche qui poi ci sono sempre lette le eccezioni vediamo il bond il migliore btp il btp che probabilmente beneficia anche del grande scoperto che c'era sull'italia perché l'italia anche a causa delle elezioni e quant'altro andava incontro a particolari difficoltà autunnali e probabilmente questo scoperto sta rientrando siamo arrivati dal target di 119 che avevamo fatto vedere c'è ancora spazio a salire anche il bond però vedete la differenza no il bond molto più contenuta la dimensione della candela verso l'alto però anche il bond sta disegnando correttamente in maniera simmetrica a quella del rendimento un minimo arrotondato interessante sicuramente da seguire perché c'è molto spazio verso l'alto fino ad area 150 questo è il boost ox quindi adesso vediamo un attimo gli indicatori di volatilità no gli infamosi indici della paura tra l'altro qui l'indice della paura che sono scesi e viene riflesso anche da quanto rappresentato dal fear and grid index della cnn siamo in area grid avidità questo è un indicatore che oscilla tra paura e avidità e indica un po' il sentiment del mercato quindi è tornato un certo ottimismo a distanza di un mese fa dove eravamo in piena paura 34 quindi eravamo dalla parte opposta questo vi fa capire come basta poco il mercato che ancora gode della memoria degli anni 2020 21 con le galoppate dei titoli speculativi quindi basta poco per far tornare l'entusiasmo no vedremo fra poco un uno dei titoli speculativi che ci ha segnalato un amico lo vediamo fra un po' quindi correttamente anche la volatilità sta rientrando però anche qui siamo in una si è fermata si è fermata la discesa si è fermata in area 20 come vedete area 20 siamo a metà del guado nel 2021 eravamo nelle fasi di mercato tranquillo si eravamo a 15 quindi qui c'è spazio volendo e quindi anche questo è un elemento da monitorare questa tenuta di area 20 e già che ci siamo vediamo anche il il vix americano ecco per avere il quadro completo stessa cosa quindi anche qui ci siamo fermati a 22 e anche qui con una candela di stop quindi anche la discesa qui sembra essersi fermata vediamo se partirà un'inversione oppure no passiamo agli indici azionari il dax il dax è quello frenato meno frenato nel senso che comunque è riuscito a sviluppare una candela con nuovi massimi con una chiusura buona settimanale chiusura alta anche l'indicatore ancora punta verso l'alto qui se non fosse perché siamo sulle resistenze a 14 6 per il momento non c'è nessun segnale preoccupante perché a differenza degli altri indici siamo sopra la media 40 quindi questo teoricamente non solo questa settimana abbiamo cambiato la volatilità stop line ok quindi questo è un indice che sta facendo in parte corsa a sé probabilmente anche per il fatto che ha recuperato molti degli eccessi ribassisti dei primi mesi del 2022 però è una situazione tecnica che in questo momento ci sta dicendo che forse qualcosa sta cambiando l'altro indice forte che ha superato la media 40 è il Dow Jones anche questo situazione simile al dax sarà perché sono molto composti entrambi da indici da titoli industriali si è andato a fermare sulle resistenze a 33.800 diciamo 34.000 questa è un'area di resistenza molto importante quindi cercheremo di capire nei prossimi giorni se si tratta di una situazione simile a quella di agosto quando era riuscito a ritornare sopra anche qui sia la media 40 sia a 33.000 che è un livello importantissimo 33.000 qua sta facendo una figura identica a quella di agosto quindi dobbiamo capire se stavolta rientra indietro o riesce per qualche motivo a proseguire gli altri indici non ci confermano questi questi scenari S&P 500 la frenata ce l'ha fatta puntualmente sotto le medie sotto ampiamente sotto le resistenze di 4.200 che corrispondono grosso modo al 33.000 che abbiamo visto prima del Dow Jones e quindi qua si creano delle divergenze ci sono degli indici dove i tecnologici pesano di più perché sono questi che stanno creando guardate il Nasdaq il Nasdaq non c'è non ha neanche toccata la media 40 ok ed è lontanissimo dalle prime resistenze importanti che sono a 333 questo per quello che riguarda l'etf delle 3q ma per gli amici che seguono l'indice stiamo parlando di 13.650 le resistenze principali e le medie sono a 12.5 siamo molto lontani ancora da lì ok di fatto il Nasdaq ha goduto di una candela gialla di espansione la settimana precedente a valle dei dati sull'inflazione ma poco di più ok ecco questo per quello che riguarda gli indici diamo un'occhiata alle commodities hanno fatto abbiamo figure di frenata da ovunque frenata poi ovviamente strumenti come l'argento che è molto più volatile questa frenata è più accentuata per lì vediamo la rami qua vediamo quasi un bearish and golfing è molto più pesante ecco loro loro è più tranquillo questa è una frenata loro è andato a sfiorare il target a 1.800 che avevamo dato ma non lo ha ancora raggiunto quindi qui può darsi che il movimento non sia ancora ultimato ecco qui l'unica novità direi importante viene dal petrolio perché questa invece è una chiara espansione verso il basso che è andato a rompere diversi minimi precedenti 1 2 3 4 settimane minimi di quattro settimane precedenti dove qui tra l'altro su scala daily passava la spalla destra di un testa possibile testa e spalle rialzista chi segue sa di cosa sto parlando quindi questa espansione ribassa del petrolio ecco con ecco questo è un altro segnale vedete su scala week importante qui le nuvole sono 3 4 non ce n'è due certezze non ne abbiamo sempre c'è il supporto a 75 ma qui avevamo detto che su scala settimanale il target tecnico era in area 65 quindi vediamo se è ripreso questo movimento il segnale di questa settimana direbbe di sì vediamo un attimo se riesco a rientrare sulla vecchia freccia ecco quindi movimento di ripresa dicevo importante quindi attenzione a questa rottura dei quattro massimi precedenti perché è un segnale negativo non ci sono novità dagli asset speculativi state seguendo forse le vicende di ft x ft t quindi qui ci sono liquidazioni massicce in questo il mondo delle cripto bitcoin anche qui c'è stata la rottura ribasso la settimana scorsa abbiamo target in area 14 13 mila ecco questo è un po il quadro della settimana io verrei a questo punto velocemente alle richieste cominciamo con intesa san paolo veniamo in italia ecco intesa san paolo in diciamo sintonia con quello che se l'andamento dei mercati europei e abbiamo visto il dax ma anche il fuzzi mi quindi ricoperture sicuramente sull'italia vi ricorderete qualche mese fa il solito il solito fondo megafondo americano aveva annunciato grande scoperto più o meno eravamo qui nel mese di giugno luglio quindi posizioni ribassiste sull'europa come vedete poi il mercato non è andato più giù di tanto quindi ci sta che ci siano delle posizioni ribassiste importanti che vengono ricoperte sono state ricoperte in questo periodo per quello che riguarda intesa san paolo non c'è nessun segnale di reversa direi all'amico quindi su scala weekly il target potrebbe essere quest'area 2 4 molto importante molto importante 2 4 questa è semplicemente una candela di rallentamento perché ha il body più piccolo delle altre vediamo che c'è se andiamo a vedere i corpi delle candele questa è una candela di una certa estensione la settimana scorsa si è ridotta questa settimana si è ridotta ancora meno l'estensione delle candele la possiamo leggere come un piccolo indicatore di momentum spot no quindi vuol dire che si gira no vuol dire che sta perdendo momentum però non abbiamo segnali chiari netti di inversione come abbiamo visto in altri grafici quindi questo è quello che ci dice intesa san paolo su scala weekly rimane la stessa ambiguità che abbiamo visto prima no è un titolo che ha superato bene la media a 40 e la volatilità stop line ha cambiato colore ci sarebbe perfettamente un ritest delle vecchie resistenze in area 2 e 1 ecco questo se dovesse accadere qui non si meraviglierebbe nessuno altre richieste passiamo ad un altro mondo ecco dicevo nel mondo dei titoli speculativi ma io non voglio deludere l'amico ma fare analisi tecnica su questi titoli l'ho detto tante volte io so che tanti sono rimasti tanti amici sono rimasti coinvolti magari in queste vicende del 2021 io non sapevo più in che lingua dirlo se andate a vedere sul blog qui del canale youtube ci sono tutti i video del 2021 dove dicevo di stare attenti alle manie speculative perché era un fenomeno pari pari come l'avevamo visto nel 2000 2001 sono titoli che non hanno fondamentali se l'amico va a vedere qui vede che questo è un titolo che perde soldi earning per share negativo capitalizzazione bassa scambi bassi si è andato da zero a 60 ma da 60 è tornato a zero zero si fa per dire è tornato su livelli molto bassi 6 dollari quindi si la settimana scorsa sull'onda del rimbalzone di tutti i titoli speculativi questi qua ci hanno fatto più 50 più 60 per cento una settimana stiamo parlando di non penny stock ma ricordo che in america tutti i titoli che valgono pochi dollari sono considerati comunque small cap e quindi molto volatili e per cui qua fare analisi tecnica l'ho detto tante volte non ha non ha senso darei informazioni sbagliate ecco dire all'amico di inquadrare quella posizione in un contesto diverso poi se ha dei dubbi magari mi scrive ecco chiuderei con un'ondata un'occhiata apple fra i nostri vari canarini nella miniera apple rimane ancora sotto la media 40 con la volatilità stop line negativa quindi non è riuscita in questa fase positiva a riguadagnare nonostante fosse il titolo più forte dei fang non è riuscita a rimanere sopra la media 40 questo è un altro segnale discordante che ci dice che concludo qui di prendere con le molle i segnali positivi che stiamo vedendo perché non c'è non c'è coralità non c'è breath il famoso breath il famoso respiro che abbiamo di cui abbiamo tanto parlato nella fase finale del 2021 che tra l'altro è uno degli elementi che ci ha fatto mettere allerta appunto sulla possibilità di prosecuzione del bull market funziona la rovescia qui cioè ci vuole anche che i tt i grossi titoli supportino i movimenti positivi che stiamo vedendo su alcuni indici quindi attenzione perché non so se si girerà domani però il perché ripeto sfera di cristallo qui non ce n'è però ecco i segnali non sono tutti concordanti non sono tutti omogenei prudenza come sempre intanto vi auguro buon fine settimana appuntamento a lunedì l'america come vi dicevo sarà metà in vacanza settimana prossima ma invece l'europa e tutto il resto va avanti e quindi noi continueremo a seguire tutto quello che succede altrove va bene grazie ancora e buon fine settimana alla prossima